Buongiorno amici, buongiorno, con solito appuntamento quotidiano, continua l'approfondimento sulla questione economica. Alcuni utenti scrivono convinti di una cosa che invece è errata e sbagliata e scrivono che bene se Redbird non paga il debito che ha contratto con Elliot, si riprende il Milan. Questa cosa qui è completamente errata, è completamente falsa perché le garanzie che Redbird ha offerto non sono il pacchetto azionario di maggioranza del Milan, cosa che avrebbe fatto Invescorp e quello che fondamentalmente ha fatto Yongong Li o quello che ha fatto Zhang con Octree. Non sono state date quelle garanzie, anche perché Elliot non voleva quel tipo di garanzie, proprio onde evitare casi Yongong Li. Quindi Elliot, se Redbird non paga, non si riprende il Milan, ma va ad attaccare le garanzie che Redbird ha dato in caso di mancato pagamento, che sono altre, che non conosciamo ma è una garanzia completamente diversa da quella che è stata offerta. Quindi questa nebbia va totalmente diradata perché altrimenti siamo convinti di una cosa totalmente sbagliata. Elliot non va ad attaccare il Milan, non si riprende il Milan e quindi Redbird ha una capacità di manovra che gli può permettere una serie di soluzioni. Intanto per evitare di andare nel caso malaugurato, che non abbia i soldi per poter andare all'estinzione del debito con Elliot, Redbird può intanto prorogare, quindi acquistare il tempo. Paga, estende, se ne riparla più avanti. In quel periodo ha la possibilità di trovare il capitale, trovare altri investitori. Oppure può, nel momento in cui l'indagine della magistratura verrà archiviata anche da un punto di vista civile e penale, così come è successo nel caso della parte sportiva rappresentata dal FIGC, in quel caso torneranno gli investitori, cioè metterà di nuovo delle percentuali, il 10, il 20, il 30%, il 49% del Milan in vendita per gli investitori. Quindi trovare qualcuno che fondamentalmente paghi, compri il debito con Elliot per poter poi andare a ragionare. Quindi il fatto, l'ipotesi che altri investitori entreranno, è praticamente garantita al 100%, con tutto quello che ne consegue. Perché se dovessero entrare nuovi soci, nuovi investitori, e ripeto e sottolineo, una volta archiviata, per adesso non succede niente, perché c'è questa indagine. Ma una volta archiviata l'indagine, se sarà appunto archiviata, cosa che è legittimo pensare, perché io faccio tanta fatica a questo punto a pensare che delle società, dei fondi così bravi a lavorare, possano aver commesso l'erroruccio per farsi incastrare. Quindi che sia orologeria, che non sia ad orologeria, non importa. Il punto è che questa indagine sicuramente ha complicato i piani per l'ingresso di altri investitori. E chiaramente tutto questo dovrebbe anche escludere e scongiurare il fatto che ci possa essere la regia di Elliot dietro. Cioè, se è cerchione d'avanzo, è un discorso, Sky Group, lì come si chiamavano, è un discorso. Visto che poi chi l'ha portato avanti era, diciamo, parte di quella fazione. Ma che sia stato Elliot, in teoria non dovrebbe avere nessun vantaggio, perché non può riprendersi il Milan e quindi rifare lo schemino un'altra volta con qualcun altro. Perché il Milan è di Redbird. Fine del discorso. E se Redbird non avrà i soldi, quello che Elliot si andrà a prendere per rifarsi di quei soldi non è il Milan. Quindi non c'è possibilità di togliere Redbird dall'equazione. Spero che sia chiaro questo. Torniamo al discorso degli altri investitori. Se dovessero entrare dei nuovi investitori, ovviamente cambierà il consiglio d'amministrazione. Perché ci saranno rappresentanti, ci saranno espressioni dei nuovi investitori nel consiglio d'amministrazione. E quindi l'unica speranza che possiamo avere, considerando che Redbird almeno per ora non sembra avere un grande interesse nei confronti della parte sportiva, la speranza è quella che entrando nuovi investitori, i nuovi investitori invece ce l'abbiano. E che quindi decidano di lavorare su, per esempio, mettere quelle funzioni che al momento sono mancanti in primis un DS, un direttore sportivo. Cioè mantenere la parte sportiva competitiva tanto quanto la parte finanziaria, tanto quanto la parte di sviluppo economico. Chiaramente entrando nuovi investitori cambierà anche il piano industriale del Milan, cambieranno gli obiettivi del Milan, cambieranno i goal del Milan, non quelli nella rete, ma quelli chiaramente all'inglese. Ed è molto probabile che possa entrare qualcuno con una quota di minoranza che poi col tempo potrà diventare di maggioranza, ok? Ora questo, per farvi capire, ha una durata che potrebbe essere da un paio d'anni, qualche anno a un periodo più lungo. Proprio perché, come vi dicevo nell'altro video, non si sa quale sia il piano di Redbird sul Milan. E sicuramente lo stadio ha una funzione totale perché consente di aumentare tantissimo di valore l'asset Milan. E quindi ovviamente fare un affare su un qualcosa che valga un miliardo e mezzo, un miliardo e sei, un miliardo e otto rispetto agli uno e due con cui è stato comprato e garantire quella grande plusvalenza a Redbird. A meno che in tutto questo scenario non arrivi un, tra virgolette, arabo oppure un riccone o un gruppo di ricconi di qualsiasi nazionalità esso sia, disposti a dire noi mettiamo due miliardi sul tavolo e compriamo il Milan oggi. A quel punto Redbird si siede, ragiona e dice due miliardi mi vanno bene come plusvalenza, considerando che un e due lo spesi, più altre spese che ci saranno state, se dicono di sì, bene, ma bisogna trovare qualcuno che sia in grado di farlo. Così come nel caso in cui Redbird non riuscisse a pagare il, come dire, a pagare la quota, Redbird si farebbe comunque aiutare anche da una banca. Se non riesco a trovare un investitore, immaginiamo, non lo trovo, do quella parte a una banca che mi trova lei l'investitore. Ok, quindi ci sono tanti scenari, ma quello che possiamo scongiurare completamente è il fatto che una volta, se dovesse Redbird appunto non pagare, cosa molto remota, ci tengo a sottolinearla, la cosa molto remota, proprio perché ci sono, come vi spiegavo, tutta una serie di escamotage e di modi per non ridursi appunto con il cappio al collo, in quel caso appunto è da escludere perché non è attaccabile il Milan, cioè il pacchetto azionario del Milan, quindi quello lì resta a loro e anche in quel caso l'ingresso può essere perché lo trovano loro stessi oppure perché una banca le aiuta a trovarli. In tutto questo c'è ovviamente una questione che è cruciale per noi, perché davvero hanno ragione quelli che scrivono, ci hanno trasformati in ragionieri, però l'importante intanto è comprendere, perché ovviamente, continuo a dirlo, devi conoscere con chi hai a che fare e quindi come ragiona lui, perché come ragiona lui non è come ragioni tu. Se dessero il Milan a noi, noi la prima cosa che penseremmo di fare è prendere un DS, prendere un allenatore, faccio mercato, ok? Ma non è questo il caso. Perché non sia questo il caso? Però purtroppo è un grande punto interrogativo. Come mai questa società non dimostri, salvo poi essere completamente smentiti, ma ovviamente dovrebbe esserci un'inversione di tendenza talmente radicale e netta, dove dal primo luglio questi qui all'improvviso iniziano ad operare in una maniera che fino ad ora non hanno fatto e dove ancora oggi vediamo che le cose che succedono portano in una direzione diversa, dove chiunque è vendibile. Perché se arriva appunto l'offerta per Tomori di 50-60, Tomori diventa vendibile e se Tomori, che non è esattamente quello messo sul mercato, viene messo sul mercato vuol dire che tutti hanno un prezzo e quindi si può vendere chiunque. Quindi tutto quello anche che ha detto Ibrahimovic sul fatto restano, noi non dobbiamo vendere. Sì, non dobbiamo vendere salvo offerte. Se poi arrivano con l'offerta giusta vendono chiunque, come hanno fatto con Tonali lo scorso anno. Il punto è, mi sembra che stiano continuando a brancolare nel buio per quanto riguarda la punta, con tutto il vantaggio di almeno un anno, io dico un anno, ma secondo me anche di più, perché tu già l'anno scorso non dovevi presentarti con Giroud al centro del tuo progetto d'attacco della squadra, perché non potevi. Era troppo in là con l'età per poter costruire tutto su di lui e l'abbiamo visto che il mercato è stato gestito in una maniera piuttosto fantasiosa, proprio perché ci si è mossi tardi sulla punta, all'ultimo secondo, realmente all'ultimo minuto di mercato, perché sono stati comprati tanti doppioni. Qualcuno ovviamente è andato bene e ci serviva, ma non serviva sicuramente l'abbondanza, non servivano i doppioni. E altri ruoli, due almeno cruciali, che non sono stati neanche presi in considerazione. Quindi vediamo che succede, però tutto sta facendo pensare intanto che siano sempre a ribasso le offerte rispetto ai valori dei giocatori. C'è sempre un 35-40% in meno di richiesta del Milan su quello che è il prezzo in teoria del cartellino che viene proposto dalla società. Ma insomma non c'è nulla, c'è dell'immobilismo del Milan, non parlo io. Aprite qualsiasi testata e leggerete che c'è immobilismo. Leggete qualsiasi probabilmente esperto di calcio, opinionista di calcio, neutro, che dirà che il Milan è fermo in questo momento. Mentre vedi che comunque altre società stanno portando avanti affari. Cioè nella segretezza del tutto, però Turam, la Juve lo sai che lo sta trattando, Douglas Lewis lo sai che lo stava trattando. E infatti lo stavano trattando e sono giocatori di quel livello che a noi farebbero. Molto molto comodo. Torno sul discorso. Sul perché non investano sulla parte sportiva? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Perché anche il discorso della collegialità devono poter gestire un eventuale DS perché le decisioni vanno prese insieme. È una fesseria. È veramente una fesseria. Non ha senso. Ha senso per i consigli di calcio. Non puoi reinventare la ruota. Quindi quello che si sta facendo non ha un granché di senso. Fa semplicemente capire che il loro interesse è altrove e che il loro piano funziona esattamente su quelle cose che noi per primi e la curva in ultima istanza ha sottolineato. Ovvero che noi non vogliamo partecipare ma vogliamo vincere. O comunque competere per poter vincere. Che noi non ci accontentiamo di una stagione di secondi posti. Ma è tutto assolutamente lecito e normale. Soltanto che loro nel frattempo pare che siano stati conquistati dalle parole di Ibrahimovic e noi rimaniamo con il nostro malcontento chiaramente da pessimisti, disfattisti e quant'altro. Però nel mentre io cerco di darvi una mano a comprendere l'assetto. Come ragiona il Milan? Perché? Perché è evidente che il Milan non ragiona e questo dovete mettervelo in testa. Come noi? Noi abbiamo priorità e ragionamenti che sono completamente opposti ai loro. Sul perché non si possa avere l'una e l'altra cosa non lo so. Questo è il mistero. Perché si potrebbe comodamente avere una squadra incredibilmente sana da un punto di vista finanziario in espansione sui mercati più esotici dove andare ad esportare il calcio. Va tutto bene. Si potrebbe comodamente fare e continuare ad avere i conti in ordine ma partendo anche da una squadra che venga rinforzata, che sia solida perché non c'è questa grande liability, questo rischio di impresa così elevato. Perché anche in base al tuo piano, al tuo progetto, puoi sceglierti qualcuno che possa attuarlo a livello sportivo. Se hai 50 milioni, è chiaro che se tu hai Paolo Maldini a cui offri 50 milioni per fare il mercato ma la sua idea è di andare ad acquistare soltanto top players, Paolo Maldini non funziona per te. E non è questa una giustificazione ovviamente per licenziarlo. Non sto dicendo che sia stato giusto o meno licenziarlo. Sto parlando di fare i conti con quello che hai. Trovi però un DS capace secondo me, anzi forse sei costretto a trovare uno ancora più capace degli altri, che sappia fare le nozze con i fichi secchi. Ho poco, non ho tanto, nonostante qualcuno dovrà pure spiegarmi perché il Milan che tre anni fa faceva mercato con 50, l'anno scorso ha dovuto vendere tonali per fare il mercato con 120 perché altrimenti sarebbero stati come al solito 40-45 milioni e anche quest'anno in teoria dovrebbe gestire un mercato con 40-45 milioni. Dove sta il progresso? Dove sono i vantaggi di questo tipo di logica finanziaria? A cosa serve lo scudetto del bilancio? Se tanto sempre quello puoi spendere. È contro come ci è stato presentato. Cioè ogni anno essere più forti, ogni anno rinforzarci, ogni anno arrivare ad avere un livello di competitività sempre più forte. E questo non sta succedendo. L'anno scorso noi siamo stati meno competitivi e l'anno prima lo siamo stati ancora di meno. Sì, forse siamo cresciuti ma abbiamo fatto però una semifinale che l'anno scorso non abbiamo fatto. Ma venivamo da uno scudetto. Quindi il nostro rendimento a livello di competitività è sceso perché abbiamo perso sei derby, cosa che l'anno precedente comunque non era successo. Ne avevamo persi diversi ma non sei. Quindi bisogna calcolare tutte queste cose. Cioè dove siamo rimasti stabili è nella distanza dalla vetta. Meno 19, meno 19. Che fosse il Napoli o che fosse l'Inter. Perché non si possa comunque incrementare e lavorare sulla parte sportiva ma continuare ad affidare a tirocinanti, a persone che non hanno mai fatto quello di mestiere. Perché Moncada non l'ha mai fatto di mestiere. Perché Furlani non l'ha mai fatto di mestiere. Perché Ibrahimovic non l'ha mai fatto di mestiere. Perché non si possa mai avere una persona competente. Ecco perché non riusciva a pronunciarlo Ibrahimovic. Perché la parola non era competitive. La parola era competente. Questo resta un mistero. E fino a che non probabilmente non entrerà qualcun altro. A meno che nel piano di sviluppo di Redbird non ci sia a un certo punto la svolta sportiva. Ok? Come i Beatles. Ok? Si passa dalla fase beat a un certo punto la fase di massima creatività con la psichedelia. Benvenga. Ma noi non lo potremo mai sapere. Quindi al momento possiamo giudicare quello che succede. In questo caso ci ritroviamo a giudicare quello che non succede.